Nonostante le sofferenze e patite, sarebbe riuscito a guarire dal male che lo affliggeva. Dopo, le condizioni cliniche dell'uomo migliorarono fino alla completa guarigione. Successivamente, l'uomo acquistò una casa in campagna. Dove trovo un'immagine raffigurante la Madonna del Mirto. La Madonna, già anni prima, gli apparve il sogno e gli salvò la vita. Nel 1837 si diffuse in Sicilia il Colerano e anche il nostro piccolo paese fu colpito. Il popolo di la Franchese, con fede, portò la Madonna delle mie del paese. Durante la processione, il popolo la regava fedelmente, stringendosi ancora di più intorno a lei, affinché l'epidemia scomparisse. Dopo questo episodio, è che l'ex voto del barone Giuseppe Antonio Russo, come ringraziamento per commemorare una particolare grazia ricevuta, è costumita la figurella. Una cappella votiva, dove si è posto una coppia del quadro della Madonna del Mirto. Il ricordo del miracolo, sopra la cappella, è posta una rapide e un inciso. Del Colera, le dì, le nostre peci affigliano oggetto. Dalla fronte messa, sposse la vergine, sangue, e sangue in luogo, passeggia intervista. Ancora, il ricordo del miracolo, nel rosario del passato che la recitava. Un giorno, le padre in sogno, una donna vestita in nero, che disse di essere la Madonna di Villa Branca. Il sogno, le fedele, decise di percorrere, e di scazzi, e inizierò, nel 800 grammi in mano, il tragitto esattuto a Villa Branca. Insegno al viaggio, la donna morì. Nel 1758, un grande incendio corribì la città di Catania. Contemporaneamente, a Villa Branca si stava svolgendo la processione della Madonna di un'unica. Si nata, che sulla barra, accanto alla Madonna, era stata messa una bambina ammuta, con la speranza che la vergine potesse concedere il dono della voce. Inavvisamente, il guadro lo sconquembe, e fu l'ora che la bambina escapò. La Madonna non è qui, è andata a Catania, gridano tutti i ragni e i peccini, viva Maria delle bustiche, la scapolita sta arrivando. Non appena pronunciate queste parole, il guadro non concorda. Alcuni catonesi, infatti, raccontano di aver visto una donna vestita di nero, con una oscella di nero in mano, che spendeva il fuoco. A questo particolare episodio, e legato in un mito, secondo lui, il guadro della Madonna, se almeno in durato, cambiò colore e di vele nero, dopo l'aspetto d'incendio. Questi sono alcuni dei miracoli della moscia benedammatica di tutti, che sono stati tramandati negli anni, e molti altri ce ne saranno supporti nel passato. Ci sono poi quelli, seppolti nel cuore di tutti noi fedeli, che con devenzione preghiamo incessantemente la Madonna, portando il suo quadro in processione nelle righe del paese, guidando con forza, come fece quella bambina, viva Maria Leutini! 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 grazie Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.